Eccoci alla Basilica di Superga a Torino. Sorge sul colle omonimo, qui la vediamo di notte illuminata. È stata voluta da Vittorio Amedeo II come ex voto dopo la vittoria con i francesi. Saliamo sulla cupola, qui la scala in salita e la scala in discesa che sale sulla cupola. Lo sguardo dalla cupola si allarga su tutta la città di Torino. Ecco qui lo sguardo di notte. Ci lasciamo incantare da uno di questi campanili che adornano la Basilica. Uno sguardo all'interno. E alziamo gli occhi verso la cupola. Questa è la Cappella del Voto. Torino di notte. Ciao 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 ciao.